A ciascuno il suo, direbbe Leonardo Sciascia, e questa dovrebbe essere la filosofia alla base dell'assistenza ospedaliera nell'agro nocerino sarnese. Ne è convinto il direttore Maurizio D'Ambrosio quando parla della differenziazione che si sta mettendo in pratica da parte della direzione sanitaria dei tre presidi ospedalieri di Nocera Pagani e Scafati per raggiungere gli obiettivi che la ASL si è data. Al centro resta l'Umberto I di Nocera Inferiore che dovrà continuare a garantire l'attività di emergenza urgenza e le attività specialistiche. Per quanto riguarda me la direzione amministrativa del DEA, Nocera Pagani e Scafati, noi stiamo differenziando le attività assistenziali. Su Pagani e Scafati, su Pagani il polo onchematologico, su Scafati il polo premologico, attualmente facciamo un'attività Covid. Mentre l'ospedale di Nocera si fa carico di tutta l'attività di urgenza e emergenza dell'agro nocerino sarnese e ovviamente di tutta l'attività specialistica sia chirurgica che area medica per fronteggiare i fabbisogni della nostra comunità che è abbastanza vasta. Sarno lavora per le sue attività, per la tipologia per cui è stato individuato, però sarebbe opportuno fare un discorso di un ospedale che possa essere riunito a seconda delle proprie capacità, professionalità e specialità presenti. Credo che questo sia il percorso che bisogna perseguire per raggiungere appunto gli obiettivi che l'azienda ha intendimento di portare avanti. Oggi siamo con piacere qua e soddisfatti perché quello che era stato promesso oggi è un altro tassello che portiamo avanti.